Il Vauro che dice, se non sbaglio da Giletti, bacerei in bocca Berlusconi, immaginatevi su altri temi. Giubilei, abbiamo bisogno di chiarire un aspetto. Io trovo comunque paradossale che affare da trainante atlantista sia un partito come Fratelli d'Italia. Poi per carità, possiamo andare indietro nella storia della politica italiana, al movimento sociale italiano e atlantista da sempre. Ok, su questo ci siamo. Però nel sottobosco della destra italiana c'è una parte di diffidenza rispetto all'atlantismo. Invece in Forza Italia, come dicevo prima, dovrebbe esserci l'amore totale e invece è il partito che più sta creando problemi. Come ci si spiega questo switch, diciamo, nei ruoli? È una bella domanda. Diciamo che io andrei su questo tema oltre lo schema, la dicotomia tradizionale destra-sinistra, perché la guerra ha fatto emergere una comunanza anche di posizioni talvolta tra aree che sono totalmente diverse. semplifico il Vauro che dice, se non sbaglio da Giletti, baserei in bocca Berlusconi, immaginatevi su altri temi, sarebbe stato impossibile. Però il fronte, per esempio, contrario all'invio delle armi in Ucraina, va dal Movimento 5 Stelle a fratto gli anni, a molte ale del mondo della destra, in parte anche vicino al mondo leghista, ma anche vicino al mondo della destra più tradizionale, perché è una tematica abbastanza trasversale. La dichiarazione di Berlusconi, quello che ha detto Berlusconi, lasciamo per un attimo da parte del calcolo politico, però è una dichiarazione che c'è una parte del paese consistente, che più o meno in termini simili, o comunque magari non così diretti, però lo pensa. E quindi Berlusconi va a fare una dichiarazione che parla a un elettorato, che è un elettorato in generale trasversale, però c'è un mondo che comunque non voterebbe Berlusconi a prescindere. Ma va a fare quella dichiarazione anche per parlare a un mondo all'interno del centro-destra, che evidentemente c'è ed esiste, che non è d'accordo sulla linea, in questo caso, di Fratelli Italia e Giorgia Meloni, che se ci pensate, in parte anche quello che aveva provato a fare in campagna elettorale, pur con termini diversi e non così diretti, anche la Lega, anche Salvini. E adesso vogliamo, su un tema così importante, che genera anche malcontento in alcuni ambienti economici, per il tema delle sanzioni, genera malcontento per il fatto che vi sia una guerra in corso, c'è un mondo cattolico che è molto vicino alle posizioni, in questo caso, di Papa Francesco, pensate alla linea del quotidiano della CEI, di avvenire, e quindi Berlusconi fa questo intervento parlando a tutta quest'area, che è un'area che evidentemente esiste ed è un'area che, secondo alcuni sondaggi, è addirittura la maggioranza degli italiani. Il discorso per Giorgia Meloni è diverso per una serie di motivazioni, che vanno dal fatto che, anche tutto, lei, ancora prima di essere Presidente del Consiglio, è Presidente dell'ECR. L'ECR è il gruppo dei conservatori europei, in cui il principale partito dell'ECR è il PIS, ovvero il partito di governo polacco. Tutti sappiamo qual è la linea dei polacchi sulla guerra, ma più in generale nei confronti della Russia, e quindi è chiaro che la Meloni, dovendo essere il leader dell'ECR, che è il partito che nasce con i toris inglesi, quindi hanno posizioni atlantiste, giustamente lei ha deciso, come strategia anche politica, ma evidentemente anche perché si crede, di tenere una linea di questo genere. In più c'è il fatto che, diventando Presidente del Consiglio, è chiaro che su questo macro tema è difficile poter avere una linea diversa da quella che sta avendo il governo attuale.